60 attività di soccorso giornaliere, 169.000 chilometri percorsi e poco più di 22.000 interventi per servizi sociali, trattamenti di emodialisi e assistenza a persone disagiate senza fissa dimora. E la foto del 2014 scattata dalla misericordia di Andria, dati che tengono conto del grande lavoro svolto dai volontari della confraternita sul territorio e presentati nel corso di una conferenza stampa ospitata nella sede di Via Vecchia Barletta. Professionalità e formazione, da oltre 25 anni, sono le parole chiave dell'associazione, chiamate a rispondere ad un numero di richieste sempre maggiore di assistenza, trasporto e primo intervento. Una sfida quotidiana affrontata dalla misericordia grazie ai suoi 117 soci volontari, di cui 90 effettivi e 27 aspiranti. Presidi ospedalieri, assistenze sanitarie, ma anche interventi di protezione civile, simulazione con la provincia BAT ed emergenze vere e proprie, come nel caso di crolli, incendi boschivi o danni causati dal maltempo. Di grande rilevanza è anche l'attività formativa svolta dalla confraternita grazie al Centro di Formazione Regionale delle Misericordie, aperta non solo ai volontari ma anche ai cittadini nell'ambito di una serie di programmi ed iniziative. Programmi come Anch'io sono la protezione civile, che ha visto la realizzazione del primo campo a scuola della durata di una settimana, rivolto ai ragazzi d'età compresa tra gli 11 e i 17 anni, e che ha coinvolto vigili urbani, vigili del fuoco e corpo forestale dello Stato. Oppure il Summer Camp, l'attività estiva, proseguita per circa due mesi con bambini dai 5 ai 12 anni. O infine il primo corso di avvio al volontariato, che ha permesso a circa 80 corsisti di vivere un'esperienza formativa diretta in diversi campi. Un bilancio impreziosito dall'attività del servizio civile di garanzia giovani, che permetterà a ragazzi al di sotto dei 28 anni di formarsi e costruire un proprio futuro lavorativo e di mettersi al servizio dell'intera comunità.